ehi ciao a tutti rieccoci nel server dei mine friends con Darkin grandissimo ciao 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 e allora Darkin si sta sbattendo a fare batterie bat pack per il mining drill e io sto mettendo in piedi lo steam engine lo piazzo qui ragazzi se vi ricordate l'ho messo in maniera più banale attaccato di fianco per alimentare la nostra baracca poi gli metti del carboncello da un lato una levetta il carbone subito poi lo riempi d'acqua io faccio la versione artigianale se non non menate la versione fatta bene poi c'ha tutte le le sue cosine giuste c'è l'alimentazione automatica scusa se ti rubo tutte le fornaci però mi servono a disposizione così riempio d'acqua vedete prendo do prendo do prendo do è finito di prendere l'aria doubt des c'è qualcuno che ha tatuato ragazzi non ve lo riveleremo mai ah ah non lo so neanche io chi è che ce l'ha ah non sai che c'è qualcuno che ha tatuato doubt des no dobbiamo fare una piccola pietra amici cari amici parenti nipoti la pietra si fa così la scusa la leva con la levetta noi possiamo attivare la cucciolata la cucciolata ragazzi io uso solo parole dure difficili e cattivissime no questa è nuova adesso mi devo informare le tre le tre a pumpa le tre a pumpa me la bestia si pumpa che la pumpa allora ho visto i commenti al mio vlog andrea si sono riusciti anche insultarti e perché sono così cari edu no no c'è uno che è riuscito a insultarti cosa ha detto se non ti vergogni che a 37 anni giochi sarà mica uno di quelli che ho citato nel video famosi i rosiconi ma guarda 37 anni ancora giochi mi fai neanche più special tutta l'età ludica molto infantile guarda io invece faccio libri di attiva internazionale partecipò a concorsi di altissimo livello e di quel mondo insegnavo ragazzi a stare vaffanculo a testare della bucchi dei mamma e aggiungere pure vaffan mocca roby ma se ti se ti faccio vedete ragazzi abbiamo fatto lo steel plate ok mi rubo uno stack da 50 di diamanti di di attenzione adesso lo spegniamo il motore sono si fonde benissimo dimmi rubo uno stack 50 lingotti d'oro e perché perché devo fare tanti diamanti per fare tanti glass fiber e ma scusa uso il copper per l'esperimento per la parte sperimentale questo è il mio suggerimento poi poi se va bene cambiamo i fili cambiamo i fili io c'ho tanti fili di copper quali vedi no ne ho tre leggi usati e ne ho 44 qua e usa il copper poi sono il primo a dirti di usare 47 dai mancherebbe altro prima dirti di usare il materiale per le cose fighe allora quindi mettiamo questo plate in mezzo andrei vado a provare la cd station tra feeding station mi serve uno scrigno da mettere a fianco guarda non ti vergogna a tua età giocava ancora i giochini ma guarda io alla mia età facevo già il leader di governo io portavo grandi democrazie verso l'evoluzione industriale io creavo un milione di posti di lavoro io alla mia età alla mia età ma magari c'è 15 anni guardi ho stato zitto ho stato vedi di crescere e rosica meno rosicone io alla tua età io ho già fatto madonna me ho già fatto kate wisselt me ho già fatto si justin bieber scusate scusate ragazzi se cito ho già il secondo video dove cito justin bieber però ho un odio profondo inconscio e va bene proprio bimbo anche lui c'è il suo diritto di di giustinare allora il diritto di scusami giustinare e vorrebbe dire e se si chiama giustino giustinerà ah ok niente era un verbo verbo sconnecticus perché sai c'è un grave problema grave 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 che è successo ci sono due creeper sul nostro balcone oh mamma mia ci sono anche 50 qua e vai sul tetti e ammazzali con l'arco perché se no mi salta la casa guarda con mucho piacere uno l'ho visto l'ha ammazzato il secondo non lo vedo a uno sta avendo addosso non voglio che scoppi vicino al mio forno si 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 tiro più forte io scheletrazza oh un creeper ha lasciato un disco musicale si facciamo il coso facciamo il karaoke non ho visto uno solo andrea di creeper sul tetto né ah c'è un altro ne ho visto uno solo ne allora adesso mi serve uno scrigno cavolo è proprio inficcato nell'angolo perché non lo vedo ne va che furbo va uno e due ragazzi ecco perché il bimbo furbo usa l'arco allora praticamente volevo prima di iniziare a insultare a caso lì il genio del male volevo dire un'altra cosa che devo fare prima di tutto uno scrignetto ecco ero uscito a tagliare legna ok che mi sono piaciuti molto invece quasi tutti i commenti sono divertito e niente è piaciuto è piaciuta una bella risposta molti si aspettano fossi più giovane però ragazzi nel senso il divertimento non ha età se io mi diverto così che cazzo volete voi l'ho anche detto nel video che non giustifico mai niente di quello che faccio aggiungo io sai ragazzi c'è gente che si diverte andando al bar e c'è gente che si diverte giocando a minecraft no ma tu non devi mai giustificare quello che fai no non stai giustificando sto facendo un paragone no ma neanche dire che ne so è meglio che andare al bar ragazzi io mi faccio i fatti miei finché non vengo a casa tua e ti fico un pupazzetto di minecraft super il sederone che vuoi dalla mia vita fatti la tua, vivi la tua, stai bene, stai male nel senso probabilmente tu questa sera c'è un appuntamento con Belen io non me lo posso permettere godi te la tua serata non lo so io alla mia età ho trovato una fonte di relax anche in questo poi ognuno fa quello che gli pare si si poi c'è chi rompe i coglioni per professione chi invece per divertimento gioca a minecraft non so chi preferite io preferisco me stesso chiaramente va bene va bene eccolo qua allora quindi dopo che abbiamo insultato un hater a caso allora facciamo uno scrigno da mettere a fianco ecco qua benissimo allora questo scrigno sarà alla base della feeding station quindi caro Andrea sì che cosa mangiano gli animaletti mangiano il grano i semi giusto sì e la quella terza cosa la carotina per i maialini giusto ma se io mi butto da qua mi faccio male non farti male quindi grano semi e carotina devo portarmi adesso vediamo se ce la facciamo mi sono fatto del male sono cascato sì guardi quanti buchi che abbiamo sotto casa sembrano un groviera eh devo costruire cioè dovevo costruire allora vediamo un po' intanto lasciamo un po' di cose qui ragazzi ho un disco musicale faremo giù box quindi 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 lascio giù la carne cruda lascio giù questo ah mi hanno detto che con lo shift ci si ferma sulle scale non lo sapevo è facile in effetti allora semi grano e carotina mi fai un favore poi già che sei in giro sì se mi riesci a prendere della legna sì te l'ho messa già un po' te l'ho già preso un po' scusa e poi ahia se riesci a farmi una bat box allora subito in questo momento sai cosa faccio pianto giù la feeding station con il suo bello scrigno di shibari a fianco la feeding station la feeding station sto parlando come quello lì sto parlando eh eh alla sua casa in questi video qua guarda io invece allora ecco qua ragazzi la feeding station alimentata si mette uno schigno a fianco e dà la pappa a tutti sta mucca arrampicata qui mi ha fatto girare tre quarti di marrone grazie vedete vedete le bestie si avvicinano e prendono la pappa guardate come si esauriscono gli alimenti però sta dando solamente grano che strano sì se vi era più grano non sta dando i semi non sta dando le scusami eh siamo all'142 la gallina mangia il seme a casa mia infatti ah sapete cos'è? è un'altra cosa bella baggata c'è? c'è praticamente dà solo il grano perché non è aggiornato con la 1-4-2 ti capisci? quindi alimenta solo le mucche ah che fail beh vabbè le mucche sono belle grassette va bene meglio che niente eh meglio che niente piuttosto che niente meglio piuttosto yeah è un bug unico ragazzi veramente è un bug unico ma noi ci divertiamo anche così alla nostra età ci vuole poco e dov'è il legno? te lo sto portando 24 tocchi allora ti faccio una batbox devi farmi guarda cosa vieni sopra sì ah visto che questi vanno a vento a casa mia più in alto più vento fa giusto? ma quanto l'è brutto sto coso che hai fatto Andrea ma guarda la tua mancanza di buon gusto è leggendaria ma questo qui è il record proprio questo è questo è over the top cioè questo proprio ragazzi ma devo ancora salire un po' dov'è il legno? mi dà il legno? ragazzi crash torno dopo ciao a tutti ragazzi siamo crashati ciao siamo crashati stiamo commentando questa enorme struttura perché ti serve una seconda batbox? è perché la metto là in alto per vedere se funziona perché sennò c'è perdita di corrente sicuramente vuoi che te la fai io? eh intanto mi dai il legno che vado avanti a fare la scala te lo metto nello scrigno materiali base sono 23 25 pezzi un po' pochetto vabbè vado a scavartelo un po' dai vado vai vado a zappettare intanto qui facciamo dell'acciaio quindi abbiamo anticipato nel video precedente ragazzi lo ripetiamo per chi non ha seguito con attenzione il server su cui stiamo giocando è decisamente bugato come si denota dal fatto che quasi tutti i grandi giocatori non siamo grandi noi ma quasi tutti stanno facendo gli aggiornamenti dobbiamo aggiornare tutto noi continuiamo a giocare divertirci a costruire ma ci sarà un momento in cui usciranno tutte le mod per la 1.4.5 è un bel mod pack basato su 1.4.5 in quel momento molto probabilmente migreremo anche noi sappiatelo il mondo non sarà compatibile quindi si ripartirà da capo può essere anche fra due mesi però nel frattempo sì sì tanto andiamo avanti qua questa volta una cosa è certa almeno io non mi faccio nessuna 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 fretta neanche io prima di migrare deve funzionare tutta la perfezione perché ovviamente non vogliamo più romperci le scatole e rifare tutto dal capo intanto abbiamo tante cose di buildcraft industrialcraft railcraft ancora tutti da fare quindi hai voglia sì sì ora che facciamo tutto poi sul server bugato ci facciamo entrare youtuber cattivi i partner che fanno i cattivi li facciamo entrare qua sul server bugato va bene allora grazie ancora per l'attenzione al mio video vlog mi ha fatto molto piacere Andrea ti metto la legna in questo scrigno materiale di costruzione benissimo adesso mi dovrebbe essere finalmente possibile unification la riunificazione dei miei archetti ah io sono arrivato a una bella altezza quindi questo è di Envil of Doom arco più arco vedete con 16 livelli faccio un arco che unisce entrambe le caratteristiche invece se mettessi due archi scarsi a costo minimo me li fa diventare uno solo però è veramente di una grande inutilità allora ragazzi devo fare 16 livelli facili se vi ricordate c'è un modo per fare livelli facili te lo ricordi Andrea? andiamo vai nel nether del coso faccio una zampettata nel nether mi faccio una spadina nuova e scusate no piccone ce l'ho già niente zampettata nel nether e via a scavare pietrina voluminosa allora ragazzi invece io metto le ultime 24 scale e penso che è un'altezza di 150 se non c'è vento cioè diventa un problema esagerato eccoci qua nel nether aaa cosa? te la ricordi la nostra portalina per i blaze? che carina si ma c'è anche un blaze dentro si vede che il nether non si aggiorna no saranno dietro saranno dietro no ma sai perché probabilmente il nether non si aggiorna infatti adesso ne è nato subito uno non si aggiorna se non ci sei dentro capito? bene mi stanno già pestando a sangue 1,2,3,4,5,6,18,35 allora andiamo a cercare quella bella polverina gialla vediamo se la troviamo a parte che basta scavare a caso ah vi ricordate abbiamo messo i segni per la robina dai scaviamo a caso prima o poi la trovo sicuramente non succederà così c'è una bella polverina gialla che dà tanti punti di esperienza piove governo ladro nel nether non piove eh per forza ah ragazzi avete visto la mia maratona di hardcore questa domenica grazie per l'attenzione spero di non avervi annoiato allora sono video che ho registrato più di tre settimane fa dovete scusarvi per questo ma mi ero divertito a fare una bella serie di video oh mamma mia ho trovato un altro portale è sempre meno sono andato avanti e indietro che babbeo ehm dicevo mi sono divertito a registrare tanti video uno dopo l'altro e così per il gusto di farlo per fare un'avventura continua e per avere anche una riserva di ehm una scorta di video eccola qua ragazzi la roba che voglio scavare no questo è plutonio una riserva di video per i tempi duri insomma peggiori quelli nei quali non era possibile registrare mi sono reso conto però che diventavano sempre più vecchi e pallosi adesso come avete visto ehm registro video più luminosi non ho più diversi dei problemi che avevo all'inizio magari sono anche più spigliato a parlare insomma ehm ci sono cose che ho imparato a fare in questa serie cose che nella nuova serie ehm tecniche magari potrebbero essere più divertenti più complete ma dove cavolo è sta pietra gialla insomma alla fine dei conti ragazzi ho deciso di portarmi alla pari esaurire tutte le puntate retrate e da adesso in poi la registra in tempo reale quindi non mi tengo più da parte puntate leggo tutti i vostri commenti le vostre osservazioni cosa c'è da fare non fare cosa mi suggerite e mi porto avanti e niente bravo un giorno si dica bravo un giorno faremo ancora un best server 125 per scatenarci con l'equivalente exchange lo sai si si ma io ho un problema psicologico adesso devo fare un botto di fili ragazzi sto scelerando sto scelerando sto scelerando ma sai che ti ricordi che ci usciva dalle orecchie quella roba gialla si non ne trovo neanche un pezzo quindi tre batterie cinque pezzi di legno un filo Andrea sta facendo una batbox ah le batterie ce le ho no scusate non ce la faccio più distruggo il piccone d'oro ecco così mi sono sfogato niente Andrea sono proprio un poveramente catto perché? ma ci credi? eh ho scavato a tal punto che sono finito in uno stronghold ma te guarda ma non quello solito? no no un altro un altro stronghold no ma ci credete? ma dai no ragazzi la glowstone bella questa la prendo no ma non ci credo scavando a casa sto figlio è una fortezza pensate noi l'altra volta abbiamo fatto il giro del mondo per arrivarci ma pensate intanto prendo glowstone che va sempre bene beh ragazzi a questo punto cari amici io non faccio nient'altro che raccogliere ciò che trovo alla prossima puntata esploderò esploderò sì esploderò questa fortezzina ma pensate che roba come vedete ci sono tutti i waypoint delle altre visite al nether intanto è il nether più brutto che mi sia mai capitato nella mia esperienza di minecraft sì seppur esperienza limitata ma cavolo il nether più brutto di questa Andrea io non l'ho mai visto io sto facendo tanti bei fili basta ragazzi va quanti se non bastano così c'è qualche problema di base ti sto rubando tanta gomma Robby tu pensa solo questo beh per fortuna che l'abbiamo parecchia dai niente ragazzi la mia ricerca della pietra che ha da punto esperienza è stato un enorme fail direi che mi fermo qui questa sera c'è Mila Juventus andiamo a vedere quanto subiamo ragazzi partita durissima e fra poco sta iniziando sì decisamente direi che è il caso il caso? di dirigersi ah sono finita l'aperta eccoci qua oh non ho trovato neanche un to ma è cambiato qualcosa nel server scusa no oh non ho trovato neanche un pezzetto di quella roba lì ma è pazzesco pazzesco incredibile che rosico 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 no no piccio sono morto vabbè sei sopra casa dai vedi il vantaggio nella sfiga eh sì ma ho perso l'esperienza di brutto eh cavolo e ti assicuro che non si fa facilmente nel nether no è tutta la roba dov'è ma che cavolo è me sto sclerando bene tu stai sclerando io non so dov'è tutta la mia roba aiaiaiaiai ho perso picconi ho perso ma guarda te no ragazzi qua stiamo scherzando con le patatine fritte dov'è la mia roba qua no non c'è eh cerco di uscire da sto posto per aiutarti se riesco qua non c'è qua non c'è qua non c'è oh io sono morto qua quindi potrebbe essere caduta qua oh mamma mia qua non c'è uno spawner di di blade lo distruggo ragazzi se no questi mi ammazzano mi ammazzano non è che è rimasta su ma non è impossibile sono morto giù uno l'ha ammazzato ragazzi ma questi mi fanno il sederino non posso star qui via sto per morire anch'io non ho nessun desiderio in tal senso ma adesso è comparsa bah non ci sto capendo niente sei fatta? spada palla piccone beh per fortuna si penso papa si c'è tutto dove mi sono infilato Andrea sto delirando si no da qui arrivo ragazzi tu stai delirando io sto delirando no qui sono appena stato scusate da dove sono venuto io da qui quanto è grosso questo stronghold si secondo me sono venuto da qua ma poi c'è anche dietro sto fate mentre abbiamo fatto il percorso dell'altra volta ne abbiamo trovato ai 3000 dai magari accelererò allora ragazzi questo non va bene sai che Andrea ascoltarò il tuo consiglio e farò la corazza come la tua a sto punto che ne dici? eh io sto eh per forza che di morire come un festa non mi va eh va bene dai io direi che ragazzi per oggi mi sa che è tutto perché eccola l'ho trovata la pietra di esperienza finalmente si forse ce la faccio si forse ce la faccio beh scava posso arrivare al diciassettesimo livello staccare andare a vedere la partita con la cucciola per fortuna non va bene la partita eh la partita va benissimo scusami no no mi hai fatto scontare Sky con 3000 chiamate minatorie io non sapete niente ragazzi io non ho fatto niente e adesso dovete sapere che Darkim è un hater di ogni servizio pubblico ogni volta che ha un problema lui chiama e te lo risolve si mi odieranno a questo punto perfetto perfetto ho fatto il numero di livelli sufficiente scale 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 quindi ragazzi benissimo ok adesso la puntata potrà terminare con la creazione dell'arco congiunto quindi Andrea hai due ore di registrazione da pubblicare si mamma sono un manico io eh allora mi darei finalmente il distacco micidiale che ti meriti eh no che distacco se ne hai meno te no distacco nel senso di come si dice di cosa capito piove perché non si attacca al filo ragazzi benissimo 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 facciamo questa operazione qui e poi tutti a nanna però d'archi si fondo i miei due archi e poi ti saluto ah beh lo provo l'arco fatto benissimo vado a tirare una freccia per oggi è tutto quindi abbiamo un arco fiamma 1 potenza 3 che è una cagata pazzesca tira belle botte vediamo che succede a questo scheletro qua giù no però prima di andare devi che era inizio la partita mi hai scoppiato un creeper in faccia innanzitutto spero non mi abbia distrutto un forno no per fortuna beh mi sembra che funziona bene l'arco dai comunque ragazzi il potere della fiamma è una boiata micidiale fate che piove e giustamente si spegne la fiamma va bene allora ragazzi per oggi è tutti è tutti è tutta è tutto grazie mille per l'attenzione ciao d'archi ciao ma io mi sono incastrato a dolore a dolore ciao e ti saluto se ciao ciao Ciao